Sono arrivati alla diocesi di Chiavari i nuovi dispositivi donati dall'elemosineria vaticana per far fronte alle necessità delle residenze per anziani. Si tratta di un secondo lotto di circa 7500 mascherine e 300 camici che andranno ad integrare quelli già distribuiti nei giorni scorsi. La prima volta abbiamo fatto una distribuzione capillare e quindi abbiamo raggiunto tutte le case di riposo alle quali tra l'altro queste mascherine erano state proprio destinate. Il lavoro che stiamo facendo adesso stiamo ricontattando tutte le case di riposo per vedere se hanno necessità e ha necessità di un ulteriore aiuto e quindi fornitura di queste mascherine e quindi procederemo alla consegna. Inoltre aggiungeremo naturalmente anche i camici e in questa seconda tranche abbiamo inserito anche le consegne alle croci e alle pubbliche assistenze proprio perché sono con i loro volontari coloro che sul territorio trasportano comunque chi ha necessità sia malati di covid che no quindi comunque fanno un servizio in cui necessitano delle mascherine. e anche un aiuto e anche una distribuzione per tutti i volontari che sempre nella nostra diocese si occupano di distribuzione del cibo quindi sia chi distribuisce i sacchetti che piuttosto il bacio alimentare. Questa è l'idea.